RISPONDA, RISPONDA, BANITO Clip Rettigliani L'ANIMA DELLI MORTACCI TUA Il gatto sul tubo, bannato da YouTube per nudità Diciamo che tanto sta foto fa riderissimo La foto con sto titolo, non so perché, mi fa pensare a lui con l'impermeabile La classica foto con i numeri Oppure tipo, che ne so, dei messaggi subliminali nei video di YouTube tipo i suoi cazzi, alla Fight Club I fotogrammi con i cazzi I fotogrammi con i cazzi del gatto sul tubo Ma che è la, Vresna, Ple Ma che cos'è? Ma io mo' so curioso, nel senso che stava in mutande Che stava a fare Una live col pannonino Levate le cazzate, no? Secondo me, bug di YouTube Diciamo che ultimamente YouTube sta un po' nel pallone e anche molte live nostre sono demonetizzate senza motivazione Alcuna C'è alcune sì, altre Davide Eh? Cosa? Senza motivazione alcuna Senza motivazione alcuna No, ma live diciamo con quel tenore di parolacce sono sempre state monetizzate Poi noi ovviamente mettiamo la categoria corretta quando carichiamo il video, no? Quindi, che ne so linguaggio lievemente, volgare eccetera Però, la cosa strana è che solitamente le nostre live partono sempre di default gialle Revisione Verdi a parte quelle più estreme, no? Invecemo No, al contrario tutte confermate gialle Ma tipo da dieci giorni a sta parte tutte L'ultima verde è tipo l'intervista Rosa Chemical Free sessualità Che vergogna Non si sa Lievemente Lievemente volgare Grazie Travis Scott Quindi, secondo me un bug di YouTube che ne so un canale flaggato qualche errore del genere perché mi sembra assurdo il gatto sul tubo nudità Beh, oddio dalla foto C'ha una spranga enorme dalla foto Possiamo giudicare la foto Oddio Comunque qua dicono da Cloro Gaming non si sa con certezza cosa sia successo ma resta il fatto che il canale di Marco Gattuso a parte da quando si chiama Gattuso Gattuso Ma beh, è un parente? E poi la sassoniglia, sai? Effettivamente C'ha un po' di Gattuso C'era un pochetto Si è sempre contraddistinto per i suoi contenuti in linea con le norme della piattaforma Ah, proprio si è sempre contraddistinto cioè proprio il suo marchio Il suo marchio di Fabia che segue le regole La unità E quando non sai quando non hai mai visto mezza live non sei un cazzo di che fa questa persona Esatto Però vabbè Sicuramente è uno tranquillo dai Ma che fa il gatto sul tubo? Che cosa fa? Gameplay Voi lo sapete? Sì, sì, sì Ah, fa dei gameplay Tipo? Con il pisello dei fuori però è talmente Minecraft Minecraft col pisello dei fuori Le opzioni sono due Intanto va un attimo a giornata layout Le opzioni sono due Quando è passato al 4k Sì, grazie Ivan Sembrava un pixelino così Ah, vedi lo step Quello è stato il macello Ivan scrive Vincere e vinceremo Sempre Ivan Sempre Ricordiamo Per questo motivo Le cause di questo provvedimento Restano sconosciute E alcuni sospettano La strada Della segnalazione Di massa I tanti nemici Del gatto sul tubo Il cazzo sul tubo Ma scusate Ma chi può odiare A parte me Il gatto sul tubo? Poi se sa mai Ma poi per il meme Perché non è che uno dice C'ho qualcosa contro sto ragazzo Per il meme È proprio il nome Che mi fa una roba E poi l'associazione con gli utopi Ma alcuni chi? Clorogaming Mannaggia a voi Dottor Commodore Anche lui ha fatto l'articolo Cioè lui Il sito Commodore Zone Ha fatto l'articolo su questa cosa Ho visto nelle tue storie Che hai risposto al gatto sul tubo Che si è lamentato Dicci Andiamo subito a vedere Andiamo subito a vedere Commodore Eh sì sì Dottor Commodore Commodore Dottor Commodore Vediamo un po' Vediamo un po' Ma che è? No Nelle storie Nelle storie No ma che è questa? Non lo so Grande che giochi a tombi comunque Grande Ma che è questo? Ma è lui Commodore Mi interessa più tombi di questa Sì la sorella Il trucco del triangolo Ah certo Con una VPN Anche nota come Virtual Private Network Puoi triangolare Punto esclamativo VPN Punto esclamativo VPN Grazie per aiutarci nel nostro sponsor Grazie mille Grazie per essere con noi Vediamo È scaduta? Eccolo Eccolo Chiuso il canale Ma c'è sta il link Tu fai il gatto sul tubo Io non sono Commodore Zone Dottor Commodore Nessuno di noi ha espresso un parere positivo sul tuo ban Quindi se un utente su Commodore Zone Ha espresso un parere negativo su te Non associarlo a me Quindi è successo qualcosa La solita roba del gruppo Commodore Zone Che è successo? Vabbè Avranno scritto le solite Oscenità Doppia colazione domani Ne sappiamo qualcosa Corco 2 Sto già lì per me Vado proprio da Nici Me pia proprio il croissant Quello col pistacchio schifoso In zuppo nel latte E proprio Ah godo Godo Che bello Hanno bannato il gatto Ma chi è che può godere del banno del gatto sul tubo? Ma ci starà qualcuno che godrà Ma chi? Ma non ha mai fatto del male a nessuno A parte a se stesso L'internet purtroppo è così A Yotobi A Yotobi Vabbè Yotobi Ma Yotobi Poracci Ha una grande ironia al contempo professionalità Il gatto sul tubo si è rivelato essere un canale capace di tenersi in piedi Ma pure qua farete ironia e professionalità Non avete mai visto più di 3 secondi Applicabili a chiunque praticamente Ironia e professionalità Cioè nessuno ha mai visto un cazzo Capito? È il corrispettivo di Salutava sempre Ma veramente assurdo Nessuno ha mai visto un contenuto del gatto sul tubo Sul web È una cosa allucinante È una cosa assurda Vabbè Insomma sapranno un cazzo manco loro Vabbè sbannatelo Dai Vabbè sbannatelo Ma se poi davvero Se dobbiamo sbagliare era uno scherzo Dai quella segnalazione era uno scherzo Ma se davvero però si è messo un tonuto E noi non lo sappiamo Vabbè a quel punto ha maggior ragione sbannatelo Ma chi se ne frega Ma sì Almeno avrebbe fatto qualcosa di rilevante Nella sua utile resistenza No vabbè ma si scherza eh Si scherza Si scherza assolutamente Telegram Marro Gatto sul tubo ufficialmente invitato Addirittura Telegram Quindi avete un filmato Ma hanno scritto pure Snapchat Marro Snapchat pure No regà fermi oh Greve 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 Tommà Sono screzi tra di voi Vabbè da quello che ho capito Sono chiarito Io ho detto ok RISPONDA RISPONDA BANITO Glipp rettiliani L'anima degli immortacci Tua